Benvenuti da Salvatore Marino, vera informazione, articolo 21 come vedete alle mie spalle, questa trasmissione importante, esilarante, è l'intervista della settimana per quanto riguarda il mio programma. Consideriamo che io esco con un'ora e mezzo settimana, con sei ore e mezzo di trasmissione televisiva in digitale terrestre sul canale 17, con il canale 15, quindi devo dire anche meglio di Mediaset, perché Mediaset Extra sta su 34, quindi voglio dire è 20 e 34, noi stiamo 17, quindi ci potete vedere molto facilemente, basta fare zapping, non fossilizzarvi con la Gruber e con Matrix, che sono disiste, vi dicono le bugie, noi da avere informazione vi diciamo la verità, non decura, a partire da questo mio bel cile giallo che simboleggia, innanzitutto ricordo l'appuntamento a Roma del 5 dicembre, a Montecitorio, per andare contro tutto il sistemi che ci stanno massacrando, sistemi del mondialismo, del nuovo ordine mondiale, il sistema dell'alta finanza dei Rothschild, l'inquinamento, le scie chimiche, l'inquinamento e non l'ultimo, che è importantissimo, il maltrattamento degli animali. Ho per questo ospiti importanti, Sara Durante, volontaria dei canini, di chi? Ciao Sara, grazie di essere qui. Abbiamo Gianfranco Maio, volontario, animalista dell'associazione nazionale LIDA, che sarebbe Lega Italiana dei diritti animali, importantissimo. Ovviamente, vediamo un attimino che tra l'altro questa associazione gestisce proprio il canile di Ortona, il canile di Ortona che è molto importante. La questione del randaggismo, i nostri amici ci parlano del randaggismo, del rispetto agli animali, perché qua bisogna veramente moda, torniamo ai vari decreti legge, che poi ma molte volte si dimenticano degli animali, per esempio. Io ci avevo inserito la prima cosa, cioè voglio dire rispettare gli animali.